Una nuova parte di Polifemo dedicata alla conferenza stampa di presentazione di Restate all'Eporano, ovvero l'Estate Leporanese 2018. Si tratta di una quarantina di eventi, di appuntamenti che come ogni anno tradizionalmente, storicamente davvero polarizzano l'attenzione. Un momento di incontro, di arricchimento culturale, di intrattenimento e di svago. Tante le esigenze che vengono soddisfatte e ogni anno si è visto che questi eventi riescono a calamitare l'attenzione non solo di Tarantini e di persone provenienti dalla provincia ionica, ma dall'intera Puglia e anche da altre parti d'Italia. Qui, presso il castello Muscettola, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo. Come avrete modo di sentire, come dire, tanti eventi per tutti i gusti. Bene, iniziamo questa conferenza stampa per la Restate all'Eporano, anno 2018. Io ringrazio tutta la stampa e le associazioni che hanno creduto e sono intervenute al presente incontro e che chiaramente porteranno con tanti sacrifici avanti la Restate all'Eporano. L'amministrazione, capeggiata da me e con l'assessore Lotta, ha predisposto come al solito un bel programma corposo perché noi all'Eporano ci crediamo tantissimo. Crediamo perché è sempre stato un paese turistico ed è un paese turistico, ma non solo turistico. Pensiamo anche alla cultura, all'intrattenimento per i turisti. Chiaramente avere le piazze vuote, i punti attrattori, i luoghi attrattori vuoti durante l'estate, significa dare una cattiva immagine al nostro territorio, come se fosse un territorio dormitorio. Invece no, bisogna chiaramente venire incontro a quelle che sono le esigenze del luogo, delle persone che ci vivono, ma soprattutto per chi viene a villeggiare. I dati sono confortanti, anzi sono ottimi, perché, che se ne dica, il nostro territorio ormai come Salento va bene. Tutti i lidi sono pieni, ma non solo di residenti, quindi di persone che si muovono ogni giorno da Taranto o dai paesi vicini. No, sono presenze di stranieri, non stranieri italiani, ma stranieri nel vero senza parola, quindi irlandesi, inglesi, tedeschi, vengono da ogni dove ormai. Le strutture ricettive sono ormai piene, dai BNB che ormai in misura esponenziale si stanno aprendo, belle strutture, chiaramente, io sono contentissimo come contenta l'amministrazione, perché lì dove c'è sviluppo turistico non può portare che benefici alla popolazione e alla comunità. e su questo io e l'amministrazione, quando parlo io parlo dell'amministrazione in generale, questa amministrazione si è sempre contraddistinta e si contraddistingue proprio per dare uno sviluppo al nostro territorio, perché erano e sono questi gli obiettivi. Altri non ce ne sono, a noi non interessano gli altri obiettivi, interessa portare benessere, l'interesse pubblico prima di tutto e rendere non solo il paese ricco sul piano delle iniziative, non solo d'estate ma anche durante gli altri periodi, ma rendere questo territorio all'altezza della situazione. Ecco perché l'impegno di questa amministrazione sta approfondendo per quanto riguarda le opere pubbliche, perché è bene presentarsi con un biglietto da visita nel miglior modo possibile, ottimale. Non vogliamo più che il nostro territorio si presenti in maniera negativa, è un territorio che ha le sue positività, abbiamo le bellezze che Dio ci ha dato, bellezze naturali, bellissime che tutti ci invidiano, abbiamo le bellezze storiche, archeologiche, di tutto di più. Il paese è bello, come tutta la marina, quindi diamoci da fare tutti quanti e vi ringrazio veramente con tutto il cuore perché come amministrazione e come sindaco io non ho altri interessi, sono quello di portare questo comune così come lo è, perché l'epoverano sta sempre all'altezza della situazione, portarlo veramente a maggiori fasti, a qualcosa di bello. Grazie, passo la parola all'assessore. Buongiorno a tutti, anche quest'anno abbiamo preparato un palinsesto da invidia della provincia ionica perché veramente ci sono 40 appuntamenti, anche più forse, che ci faranno compagnia per tutta l'estate. L'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare questa opportunità di donare alla nostra comunità questo cartellone che è punto di riferimento della provincia ionica perché tutti quanti aspettano questo cartellone da tutte le parti della provincia di Taranto e non solo perché l'anno scorso mi trovavo fuori Taranto e il caso ha voluto che gente a Viterbo stava parlando in piazza che erano stati a Leporano in un piccolo paesino della provincia ionica dove avevano trascorso una serata e mio marito che stava ascoltando ha detto vedi che siamo noi di Leporano e voglio dire è un onore e ti gratifica sentire che anche fuori parlano del nostro paese. Noi abbiamo voluto dare una nuova immagine quest'anno alla Locandina, ringrazio la grafica, ringrazio anche tutta l'associazione di Spina che ha voluto dare a Leporano i colori del Leporano. Se quest'anno guardate la brochure è semplice, pulita, dove chiama restate a Leporano, dove c'è terra, storia, mare ed eventi ed è leggibile perché l'anno scorso c'erano stati dei problemi, non si riuscivano a vedere gli eventi. Questa Locandina ne abbiamo fatto 10.000 quest'anno che gireranno su tutto il territorio e dietro alla Locandina abbiamo voluto mettere anche una nota perché siccome abbiamo aperto l'isola ecologica, il sindaco forse ha dimenticato che ci sono tanti tanti sporcaccioni diciamo noi che lasciano i rifiuti per la strada, abbiamo questa isola ecologica, non possono dire di non saperlo perché dietro l'abbiamo messo rispetto all'ambiente e ci sono anche gli orari di apertura dell'isola ecologica in modo che può darsi che con questi volantini che gireranno la gente sarà più attenta anche all'ambiente. Allora io do lettura del calendario, poi faremo qualche intervento perché ci saranno anche degli interventi da fare. Allora il calendario è iniziato diciamo il 20 di giugno, abbiamo avuto la presentazione dell'onorevole Geo Grassi della commissione di inchiesta su Aldomoro e abbiamo avuto l'onore di averlo il mercoledì 20 giugno. Poi abbiamo avuto l'H24 con lo show di Giuseppe Carrieri il 21, domenica 24 è iniziato il teatro, una serie di manifestazioni teatrali a cura della Proloco. Il 28 c'è stato il viaggio nella musica dell'operetta lirica a cura dell'Archita e la Proloco di Taranto e la Proloco di Leporano. Sabato 30 c'è stato lo spettacolo teatrale l'ultima tentazione. Giovedì 5 e 6, questi qua iniziamo, c'è con l'Accademia di Francisco Tarrega ci sarà un concerto multimediale in piazza. Ci saranno queste due giornate, sia il 5 che il 6. In piazza Maria Immacolata ci saranno questi due giorni. Venerdì 6, sabato 7 luglio alla batteria Cattaneo abbiamo il motor ad uno del motoclub Old Fox. Proprio adesso in comune c'è la commissione pubblico spettacolo perché con le nuove normative stiamo mettendo anche a punto queste nuove normative e sopra sono impegnati nell'ufficio proprio per organizzare tutti gli eventi e anche per questi in particolare. Venerdì 6 luglio abbiamo la musica spettacolo con l'associazione MR Musica Live sulla piazzetta Via Dante. Il 7 abbiamo lo spettacolo teatrale sempre a cura della Proloco. Il 7 luglio, dal 7 al 26 luglio sulla Litorane Salentina c'è il Pizza Village. Questo qui è sull'area di Gandoli. Ci sarà un'area espositiva con gazebi, area spettacoli a cura della società Progest che è qui presente e ci sarà Pizza Village che hanno già sperimentato a Taranto sulla rotonda e sarà presente dal 7 luglio al 26 agosto. Ci saranno eventi e vogliamo valorizzare proprio questo tratto della Litoranea perché essendo da tanti anni il Vital Gandoli chiuso e adesso quella è un'area privata che ha voluto investire la società, ha voluto investire la Progest, ha voluto investire su questo terreno e darà la possibilità di animare quel tratto di Litoranea che da tanti anni è abbandonato. Venerdì 13 luglio abbiamo nel lato del castello la presentazione del libro Stile Bergoglio di Fabio Zavattaro, ci sarà anche Don Pasquale Morelli, il parroco che modererà la serata e anche Nicola Pastore. Poi abbiamo venerdì 15 luglio lo spettacolo teatrale della cura della Proloquo. Dal 21 luglio al 29 luglio abbiamo deciso di valorizzare tutta la Litoranea partendo dalla batteria Cattaneo e ultimando al luogo vivo. Al luogo vivo ci saranno due spettacoli musicali dove ci sarà anche il gruppo musicale della dottoressa Capozzimati e insieme all'associazione Arcobaleno che a livello proprio di volontariato ci sarà anche una degustazione di prodotti tipici per queste due serate, il 21 e il 29 luglio. Dal 19 al 22 luglio ci sarà la festa del Goloso e non solo, a cura della Nuova Puglia, sempre nell'area mercatale. Il 27 luglio c'è la presentazione del libro I carnefici di Pino Aprile con Modera Nicola Pastore, il 28 luglio la Sagra della Salsiccia e il 3 e il 5 agosto ci saranno i festeggiamenti in onore del Santo Patrono dove ci saranno gli audio 2 in concerto, il 3, il 4 il tour di Ciccio Riccio e il 5 il concerto bandistico. Quest'anno il comitato ha voluto togliere il 4 il concerto bandistico e mettere questa altra attività per i giovani in modo che la festa religiosa rimane soltanto il 5 in modo da far venire anche un po' di gente in più. Lunedì 6 agosto abbiamo un evento culturale la notte di Dionisio a cura delle cantine De Quarto. Poi su questo aspetto preferirei che la signora De Quarto possa venire qui a illustrare un po' il progetto come poi anche l'associazione Arcobaleno ci può illustrare. L'associazione culturale dal 9 all'11 agosto c'è al castello Muscettola, l'associazione culturale Il Castello presenterà Vivi il Medioevo, dall'11 al 19 alla batteria Cattaneo ci starà una fiera a cura dell'associazione di Brindisi in collaborazione con Rivivi la batteria Cattaneo. Domenica 12 agosto c'è un concerto di pizzica, abbiamo voluto mettere questo concerto di pizzica che si chiamano Scassi Capieti e insieme a questo concerto ci sarà una degustazione di prodotti tipici a cura dell'associazione Arcobaleno che poi Lina ci illustrerà. Giovedì 16 agosto abbiamo la Sagra dell'Orecchietta, venerdì 17 agosto abbiamo il teatro in varietà comico con Napoli Incanto con Luciano Capurro, questi qua arrivano direttamente da Napoli dal teatro Margherita. Il 18 la corrida del mare con il dilettante allo sbaraglio a cura della compagnia di Rinabello. Domenica 19 agosto festeggiamento in onore di Madonna delle Grazie col gruppo del musicale Revival Italiano e invece in batteria Cattaneo abbiamo un tributo a Depeche Mode in concerto. Lunedì 20 agosto abbiamo uno spettacolo teatrale, martedì 21 agosto spettacolo teatrale Canonna Spettaci Cogna a voluto fortemente che è un progetto che parte da Leporano, sono i New Trolls, i due storici dei New Trolls che partiranno da Leporano per questo progetto che è nuovo diciamo. Abbiamo il 22, sicuramente ci sarà tanta gente che sta aspettando perché hanno fatto anche dei concerti a pagamento e nei concerti a pagamento che hanno fatto ci sono state 3.000 presenze a pagamento. Allora pensiamo anche che essendo un concerto che l'amministrazione ha dato, voglio dire, senza pagare, un concerto libero, sicuramente avremo un afflusso di gente. Scusate ma devo spegnere il telefono. Questo è un telefono che non si ferma mai. Scusa sempre. Allora, poi abbiamo il 23, 3 San Giuseppe e una Madonna, cura della rotaia. Venerdì abbiamo un tributo ai Litfiba, rock. Il 25 abbiamo la festa della bombetta con, interverrà la serata del gruppo Castron Sound. Domenica 26 agosto abbiamo Donna dei Due Mari, alla undicesima edizione, c'è questo spettacolo che è un premio all'eccellenza della Donna del 2018 con la direzione artistica della New Ballet. Abbiamo detto che ci troviamo alla undicesima edizione. Questo spettacolo, diciamo, questo avvenimento è partito 11 anni fa da Leporano e ancora, voglio dire, forte, resiste sul territorio ed è un riconoscimento anche alle donne che si sono distinte all'interno della provincia ionica, sia nel settore del sociale che dell'imprenditoria. Quest'anno poi il sindaco, non so se per Leporano valuteremo delle denominative e l'amministrazione poi vi darà dei nomi che secondo noi sono, diciamo, da tenere presente. Il 27 abbiamo lo spettacolo teatrale Casa Arzilla con Teatro Nuovo, martedì 28 agosto la Corrida del Mare con la Corrida dei Dilettanti, poi abbiamo il 31 lo spettacolo teatrale a cura degli amici del Vernacolo, il 1 settembre un concerto sulla grande guerra organizzato dall'associazione musicale Aulos, venerdì 7 abbiamo l'edizione del premio internazionale Satirio per l'archeologia, sabato 8 settembre abbiamo uno spettacolo teatrale a cura dell'associazione Teatro Nuovo e venerdì 28 settembre c'è una finale mondiale di Miss Progress International, donne per il progresso, quarta edizione con l'ambasciatrice del progresso proveniente dai cinque continenti con i loro progetti dedicati a salute, ambiente e diritti umani. Qui abbiamo presente anche per questa manifestazione l'addetto stampa che poi anche vogliamo che ci illustri un po' il progetto. Per questo diciamo che abbiamo finito, io vorrei chiamare sia... Restate a Leporano, Estate Leporanesse 2018, ventunesima edizione. Siamo con il sindaco, l'avvocato Angelo D'Abramo, la locandina, reca la scritta, Leporano, terra di sole, di mare e di eventi. Penso che queste espressioni compendino l'offerta, tra virgolette, di questa ventunesima edizione. Noi siamo sempre pronti ad offrire il massimo. Essendo un paese turistico, veramente ci poniamo dei problemi proprio a livello di accoglienza e quindi qual è la migliore accoglienza? Quella di organizzare un'estate molto ricca, un'estate eporanese che riguarda non soltanto il centro storico ma anche la zona esterna e quindi anche quest'anno siamo riusciti a mettere insieme una serie di spettacoli, di eventi che poi culmineranno con i satiri nel premio all'archeologia importantissimi per il nostro territorio e devo ringraziare tutta l'amministrazione, la giunta che ci ha creduto ma soprattutto l'assessore che ha ben predisposto il programma come al solito e quindi andiamo avanti così. Siamo contentissimi di questo panissesto. Momenti di cultura e momenti di intrattenimento più leggeri così nella cornice, una delle cornici portanti per così dire sarà il Castello Muscettola. Importante il Castello Muscettola ma importante anche la nostra piazza e la nostra litorale perché sono centri di attrazione quindi attrattori molto importanti, il Castello chiaramente abbiamo la fortuna di averlo ma abbiamo la fortuna di avere anche altri centri attrattori che vanno comunque considerati e qualificati e portati avanti nel miglior modo possibile quindi un grazie a tutti e invitiamo tutti quanti a venire a Leporano a trascuna nostra estate. L'assessore dottoressa Iolanda Lotta, assessore appunto alla comunicazione istituzionale e agli spettacoli. Parliamo di questa ventunesima edizione di Restate a Leporano, un'offerta ricca e variegata. così ci presenti queste serate che ci accompagneranno per tutto luglio, agosto e settembre. Sì, l'amministrazione comunale ha voluto considerare proprio questa opportunità di donare alla nostra comunità e non solo una rassegna estiva che inizierà da giugno e terminerà a settembre dove non vede solo il coinvolgimento di Leporano ma è il punto di riferimento di tutta la provincia ionica perché la gente aspetta questo cartellone perché veramente Leporano diventa un punto di riferimento. Gli appuntamenti sono tanti, il 22 abbiamo il gruppo storico dei New Trolls dove partono con un loro progetto, sono due storici di questo progetto e questo progetto parte proprio da Leporano. Abbiamo all'interno di questo progetto anche teatro, musica, enogastronomia e abbiamo quest'anno voluto coinvolgere anche tutta la Litorania partendo dalla batteria Cattaneo e ultimando a luogo vivo il nostro percorso dove ci saranno degli appuntamenti. Abbiamo anche all'interno del nostro cartellone il Sam Games che sono giochi sulla spiaggia, sia Gandoli che Saturo e poi abbiamo valorizzato il Vital Gandoli. Non so se voi ricordate il Vital Gandoli che era un centro sportivo dove all'interno quest'anno ci saranno circa per due mesi un intrattenimento e pizza village. Quindi non ci resta che restate a Leporano. Restate a Leporano. Dunque un'altra puntata di Polifemo particolarmente ricca, spacchettata per così dire, cercando di dare spazio alle vostre esigenze, alle vostre istanze. Facciamo di tutto per accontentare le legittime e sacrosante aspettative di voi amici telespettatori. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel e sul Bucche Sky, canale 879, viva l'Italia Channel. Lo ricordiamo? Noi, come al solito, non andiamo in vacanza. Polifemo vi accompagnerà per tutta la stagione estiva con dibattiti, con appuntamenti e con tanti eventi appunto presenti nella nostra terra, nella provincia ionica. A venerdì prossimo, buonasera.